ciao ragazzi bentornati in questo nuovissimo video oggi siamo di tornare su battlelands loyale prima di iniziare volevo salutare luca niente che mi ha scritto nei commenti hashtag salutami e andatevi a iscrivervi al suo canale perché è mio amico e anche lui un canale che porta fornit e andatevi a iscrivervi ciao luca spero che sti bene perché non lo vedo da due mesi volevo dirvi che vedete che funziona essere salutati con hashtag fatto voi 34 35 iscritti che si sono iscritti in un mese e scrivete hashtag salutami così dovete salutare in questo video o se volete essere salutati a nome ditemi scrivete hashtag salutami accanto il vostro nome iniziamo con solitoria sono andata un po avanti di livelli e basta come io ci gioco anche per passatempo però anche per fare video perché non avrei soltanto ci sarebbe solitari io che oggi ho caricato un video che vi è piaciuto un botto ci mettiamo un disco e anche morden steak per la morden steak in un video vi dirò perché non lo sto portando molto e forse partirò tra una settimana e non avrò no cavole medicati medicati dai veloce eh sono morta ormai no ma dai ma che cavoli scusate per l'urlo però manco ha fatto 10 kg a questo adesso vi faccio vedere le mie statistiche adesso sono quasi a livello 7 e niente adesso vi faccio vedere le mie statistiche sono una notte che ho allargato quella notte andiamo qua 47 uccisioni mi spieghi come ha fatto a uscire uno con 10 uccisioni? se parlo così tanto male come ho un labbro un po strano è perché sono andata giusto a un video di dente e come mi si è confiato tutta la bocca non vi chiedete domande ok perché le domande vi fate oddio 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 ma c'è climatico? ah non mi importa aspetta un attimo eccomi qua ed ho presa qualcosa da bere perché dal lato ho la bocca come grossa dall'altro lato no e con la cannuccia devo bere scusate però avevo la gola secca intanto iniziamo a sbloccare un attimo ho sblocato pure questo balletto quando morite di più o quando uccidete qualcuno o avete questo qua di inizio questo qua io l'ho sblocato con il gratis questo qua del pass dopo quando arriverò a livello 8 mi darà 25 monete è come le monete oddio gira il personaggio le monete servono a sono come i v box buono il limone perché sto bevendo della limone ok scusate però sono ingegno ho visto ho inquietato delle saluto aspetta un attimo se mi ricordo chiedo magari una mia amica parte e la saluto anche un'altra e la saluto perché in questo momento è già in viaggio e volevo parlarvi della gestione dei video io in media io carico un video al giorno o anche due quando non sono video che ci mettono molto a caricarsi e così avete visto lo speciale no 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 ce l'ho io oddio si è bugato e e così e volevo dirvi che in questo momento in veneto dove abito io di più attraverso sta piovendo come non so cosa mi sembra che ci sono soltanto tempo perchè non sento la pioggia però è la prima volta che registro in salotto e c'è un amore boia come fa a vederla perfetto e volevo dirvi che i video in questi giorni mi stanno piacendo pure però anche mi hanno fatto la kill mi hanno fatto la kill però ma vai fancina non dico parolacce in questo canale giuro io non dico parolacce perchè mi fanno un po schifo le parolacce da una femmina di più e anche quest'età non si dico molto volevo dirvi che per questo video è tutto dai scherzavo in questi video che sto caricando come lo speciale come esiliterio che vi è piaciuto subito un bot ho visto un bot di mi piace un bot di visualizzazioni un bot di cose e vi voglio rispondere a un tizio che mi ha scritto nei commenti su prova a non cantare challenge che è dello speciale li volevo dire un grande lo porto un po affancina perchè lo so io non me ne intendo di musica però io non ascolto mai musica a parte quando la sorella mette nella tv io non ascolto mai musica di diana di drake di tutte le persone che ci sono in questo mondo e non me ne frega un cavolo cosa dici perchè sei l'unico che ti sei lamentato e non nomino manco nome perchè faccio prima e ti mando un po affancina perchè non posso dire parlo oggi è vietato nel mio canale sento un male boia al dente che me lo staccherei come mi dava fastidio di più la parlo oh di perché sto allagando quante munizione intanto vediamo una mappa vaio fucile a pompa sono bravissimo ei ei ah mazzado do disdain so did you wanna be did you wanna be did you wanna did you wanna did you wanna did you wanna be è mio fucile a pompa no lascia mi stare che scatole incontro quelli che fanno un batto di kg e un batto di kg vi dico per questo video è tutto lasciate trami e felice un prossimo video commentate hasta el pato hasta salud per adesso salutare un prossimo video quando vi date questo video tutti i nostri amici iscrivetevi al canale lasciatevi al campanile ancora se volete tutto notificate il canale e ciao a tutti e tutte